Un mercurio per chi non scivola. L'onorevole Brusasca, gli industriali Marco e Bruno Buitoni, l'onorevole Cervone e i numerosi esponenti del mondo politico ed economico italiano partecipano a una interessante cerimonia. In Campidoglio il ministro Tremelloni premia con il mercurio d'oro i rappresentanti delle ditte i cui prodotti soddisfano le sempre più complicate esigenze del consumatore. Il premio consegnato all'industriale toscano Aldo Benelli ha un valore particolare. Quest'uomo infatti ha il merito, se di merito si tratta, di averci salvati dagli scivoloni. Nel suo stabilimento di prato egli fabbrica una cera per pavimenti antisdrucciolevole. I ragazzi che si divertono a pattinare sul pavimento lucidato di fresco forse gli tengono il broncio, ma le vecchie zie gliene sono eternamente grate. La cera per pavimenti ha stentato ad entrare nelle case perché la gente aveva paura di sdrucciolare. Non è burro, questa è la resina speciale che si aggiunge alla cera per renderla veramente antisdrucciolevole. Un altro mercurio a Marco Buitoni che come è noto con la cera non ha rapporti. Grazie. Grazie.